Assessore Reina, si stanno avvicinando le festività dei morti tutti i santi, il cimitero sarà aperto e cosa avete previsto per evitare assembramenti? Sì, abbiamo previsto, intanto abbiamo contattato tutta una serie di associazioni che ci daranno una mano per evitare gli assembramenti e condigentare eventualmente se ce ne fosse di bisogno, ad oggi no, se ci fosse di bisogno di contingentare gli ingressi, ma ripeto, ad oggi no. E poi già abbiamo iniziato già da tempo per una sistemazione, una pulizia del cimitero, a giorni arriveranno i fiori per l'abbellimento del cimitero e notizia importante, già è arrivato il primo carico di scale nuove che abbiamo acquistato, dopo il problema che è successo l'anno scorso di alcune scale che erano implose, perché magari vecchie, abbiamo deciso di acquistare un bel po' di scale nuove, ne abbiamo acquistate 60, Sono arrivati le prime 20 e entro fine settimana arriverà un altro carico di altre 20 scale per completarlo prima dei morti, definire le 60 scale. Sono in alluminio, molto, molto leggere, perciò anche una persona anziana può avere facilità nell'utilizzo e nel trasportarla. Assessore, è prevista la chiusura per la pulizia? No, quest'anno come l'anno scorso non pensiamo di chiudere il cimitero, i lavori di manutenzione stanno andando avanti già da tempo, come dicevo prima, vanno regolarmente, non pensiamo di chiuderlo insomma.